... Benvenuti alla resegna stampa di oggi, giovedì 21 novembre. Siete sul canale 17 di Fano TV e questa è Occhio ai giornali, che comincia come sempre con il Santo del Giorno. Oggi la Chiesa ricorda la presentazione della Beata Vergine Maria, Maria ancora bambina, ancora fanciulla, presentata al Tempio, si ricorda questo evento. Il sole sorgerà alle 7.09 e tramonterà alle 16.38, ma oggi voglio dire anche che è la festa di tutti i consacrati. Il tempo, vediamolo subito, con il sito di trebimeteo.com o .it, a seconda di dove andate, ma comunque è sempre la stessa cosa. Il tempo, così come messo in grafica, con questa nuova perturbazione in arrivo, sarà intensa, quanto intensa, soprattutto al centro nord e il sito un po' con questi titoli ad effetto che servono anche per attirare l'attenzione dei lettori e quindi mettono un po' di, come dire, a volte un po' di ansia, ma al di là di questo cercano di accappararsi l'attenzione con il dove colpirà, quanto sarà intensa, tutti interrogativi con le risposte all'interno del sito. Noi invece andiamo però a vedere nel dettaglio il sito della protezione civile delle Marche con le previsioni specifiche per la nostra regione. Per giovedì, intanto, la giornata di oggi, avremo tempo prevalentemente, parzialmente nuvoloso con nuvole medio-alte, le temperature sono in lieve aumento, ancora un po' di venti moderati con raffiche fino a vento forte sulle zone alto collinari e montane, il mare sarà poco mosso. Per domani, venerdì, cielo inizialmente nuvoloso, con durante la mattinata brevi rovesci sui rilievi appenninici e sul settore settentrionale della regione. Le temperature sono in lieve aumento nei valori massimi e stazionari in quelli minimi. Ancora raffiche di vento forte sul crinale appenninico, poi per sabato, 23 novembre, invece cielo inizialmente poco nuvoloso con ancora un po' di venti, vento fresco, ma insomma niente di che. Per i prossimi giorni avremo un peggioramento per domenica, con piogge diffuse e anche carattere di rovescio, seguito da un miglioramento più deciso per l'inizio della settimana prossima. Allora, vi devo dire subito che abbiamo solo il resto del Carlino, perché il Corriere Adriatico, l'abbiamo provato fino a qualche istante fa, nella versione in PDF non era disponibile. Quindi non è un problema nostro, è un problema dello shop del Corriere Adriatico. Quindi ci dispiace e per oggi ci accontenteremo del resto del Carlino che apre l'edizione di Pesaro con i ragazzi per il verde, una festa dell'albero, sfida per il platano monumentale di Via Gagarin. È la foto che pubblica l'edizione di Pesaro a centropagina. Per quanto riguarda la festa di Natale a Pesaro, è arrivata la ruota, lavori iniziati, scattano le prime modifiche al traffico, sapete che la ruota sacrificherà inevitabilmente anche qualche parcheggio, mentre in alcune zone di Fano non arrivano le bollette. Caos e proteste. Di spalla il commento sull'andamento della VL, che non sta andando affatto bene per quanto riguarda il basket. VL restano solo i ceri in chiesa. Il commento che Dio ci aiuti, da quando è iniziato il campionato, la VL ha perso un giocatore alla settimana. Prima Eboa, che è stato investito da un'auto, poi Pusica, che ha avuto un colpo alla strega, quindi Totè, una frattura alla mano, infine Chapman, una distorsione alla caviglia. Già la squadra è fragile e inesperta. Se poi è anche incompleta, diventa difficile cavarsela. Domenica scorsa è stato eguagliato il record negativo della partenza, zero vittorie nelle prime otto partite, ma avanti di questo passo la collana potrebbe davvero allungarsi. le perle non sono quelle da ricordare. Domenica a Brescia, l'unico esperto del gruppo, Chapman è fuori dai giochi. Forse lo sarà anche quella dopo, con Cremone. Insomma, nessun rinforzo in arrivo, restano solo appunto i ceri in chiesa. Via vai di primari a Marche Nord, ecco i cinque nuovi ufficializzati. E poi la cronaca da Fossombrone, voglio parlare con il sindaco e minaccia di buttarsi giù. Vedremo da dove. Ancona, guardate questa chitarra, è una chitarra che ha un valore sicuramente economico, ma un valore probabilmente affettivo anche per questo frontman, questo chitarrista dei musical box, in concerto alle muse. Gli è stata rubata davanti alle muse, prima del concerto, è un pezzo unico, quindi è un valore davvero inestimabile. E adesso questo gruppo dice ridateci la chitarra. Senigallia scossa in giunta, si dimette l'assessore Campanile, non va assolutamente d'accordo con il sindaco Mangialardi e dunque ha detto lascio, ma per Mangialardi è una mossa elettorale. farmaci salvavita, furto da 2 milioni, assalto nella notte all'ex crass del piano, i ladri in fuga sono stati rintracciati però e arrestati nel Lazio. Esplosione al benzinaio, un operaio è morto, si indaga per omicidio, affermo la tragedia di un falconarese. Quella di Macerata, la pagina di Macerata apre con la moria di negozi in centro, i commercianti chiedono sgravi per le nuove attività, salviamo il centro. Apriamo adesso la pagina di Pesaro, in primo piano i nuovi 5 primari che lavoreranno nell'ospedale e negli ospedali dell'azienda ospedaliera Marche Nord, scatta il turnover, ufficializzate le nomine di Santinelli, Mancini, Dascagno, Pazzaglia e Spinelli, mentre in oncologia va in pensione il dottor Rodolfo Mattioli. Da qualche giorno ha infatti cessato l'attività come primario del reparto di oncologia di Marche Nord che dirigeva dal 2016, sin dal suo arrivo all'ospedale Santa Croce di Fano nel 1995, si è distinto per l'impegno nella creazione dell'assistenza per le cure del cancro, il Day Hospital Oncologico, partecipando allo sviluppo di servizi innovativi, sempre con l'attenzione al bisogno dei pazienti e dei familiari. Andiamo adesso invece sulla pagina di Fano del resto del Carlino. Non arrivano le bollette, scoppia il caos. Protesta a Metauriglia e Ponte Sasso, il gestore era, chiama in causa l'appaltatore del servizio, ci rivarremo su di loro. Si parla di questi solleciti di pagamento per bollette che però non sono mai state recapitate con l'avvertimento anche di un imminente distacco delle utenze. Insomma, non è una cosa piacevole. Gente costretta dunque ad andare per un anno intero negli uffici a farsi stampare volta per volta le bollette mai ricevute. Oppure, nel migliore dei casi, bollette che sono arrivate in ritardo ben oltre la scadenza. Ed è quello che è stato segnalato da diversi clienti del gruppo Era Gas e Luce e soprattutto nelle zone di Metauriglia e Ponte Sasso. Tra l'altro, nel nostro gruppo che ormai raccoglie più di 7.000 reporter proprio ieri si parlava di questo fatto. Un nostro segnalatore oggi ci saremmo occupati anche noi di questa cosa segnalava questo ritardo e sotto una sfilza di commenti e di gente che appunto diceva più o meno la stessa cosa. Si parla di un processo anche sul resto del Carlino vede l'ex fidanzato in auto con il ragazzo e dunque lo picchia è stato condannato. Li ha inseguiti, bloccati attraverso il finestrino ha mollato un pugno al volto al suo rivale in amore. L'hotello Furioso, su quattro ruote è un uomo residente nel Fanese che già non aveva preso di buon grado la fine della storia con la sua fidanzata. Figuriamoci quando se l'è vista passare davanti agli occhi in auto seduta accanto al suo nuovo compagno è salita a bordo della sua macchina e si è messo all'inseguimento di questa coppia li ha raggiunti li ha affiancati costretti a fermarsi insomma è stato un bel parapiglia e l'amante abbandonato però è stato denunciato ed è finito sotto processo a Pesaro e l'altro giorno come scrive Elisabetta Rossi sul resto del Carlino è stato condannato a quattro mesi e venti giorni. La polizia invece ferroviaria setaccia la stazione diverse persone sono state identificate controlli a tappeto della Polfer ieri mattina alla stazione ferroviaria nel corso dell'intervento che ha interessato a lungo le sale d'aspetto e le zone esterne sono state identificate diverse persone alcune delle quali stazionavano presso lo scalo ferroviario provviste di biglietto. Siamo alla fine quasi della nostra rassegna stampa siamo già alle 7.10 voglio il sindaco mi getto giù dalla rupe ieri mattina un cinquantenne che vive in macchina ha minacciato a Fossombrone di buttarsi dalla croce dei cappuccini poi il 118 lo ha portato in ospedale il sindaco Bonci dice conosciamo la sua difficile situazione e stiamo cercando di aiutarlo in tutti i modi così come lo sta facendo anche stanno cercando di farlo anche i frati che lì davanti hanno il loro convento andiamo velocemente sulla pagina di Fano un'intera biblioteca gettata al macero il grido di piccinetti distrutti i testi e le riviste scientifiche sul mare ma il professore ha salvato molti volumi affittando un magazzino a sue spese operaio morì cadendo dalla gru cinque persone sono finite a giudizio era morto cadendo dalla gru di un cantiere in via da Polloni in pieno centro a Fano un volo di 20 metri che non ha lasciato scampo a Gianni Ambrosini un 44enne operaio di Montefelcino per quella morte ieri mattina sono stati rinviati a giudizio con l'accuso di omicidio colposo per violazioni plurime delle normative di prevenzione Lucia Pierleoni la titolare della Nef la ditta per cui lavorava Ambrosini il responsabile tecnico e legale rappresentante della FM e poi c'è tutta una serie di nomi e cognomi che pubblica il giornale questa mattina riferendosi appunto a questo processo lo show deve continuare ecco l'inverno della Rocca il piano superiore del forte Malatestiano sempre a Fano ospiterà dal novembre a febbraio un nuovo cartellone di eventi si comincia domenica con Max Paiella il centro macellazione a rischio chiusura troppe spese la struttura di Schieppe di Orciano la più grande in provincia lancia l'SOS il consigliere Talè la regione intervenga e insomma faccia di tutto per non farlo per non farlo chiudile e poi scalpellino d'oro il premio a Giuseppe Ottaviani che ha compiuto 103 anni il 20 marzo scorso e sabato riceverà dal sindaco Marco Marchetti la benemerenza civica che è appunto lo scalpellino d'oro l'inarrestabile crescita invece della sanità privata questa è l'altra pagina che si trova di fianco a quella dove ci sono la nomina dei primari piccoli ospedali dopo Sasso Corvaro il caso di Cagli in affitto alla COS CAR il 42% della struttura e Fabri dei 5 Stelle parla di strategia chiara nella determina si parla di affidamento alla società anche di medicina lungodeggenza Urbino scienze il mondo guarda a Urbino l'università sale al secondo posto prima in Europa nella classifica delle citazioni per le discipline della fisica chiudiamo con questa pagina di Civitanova per far vedere questa fotografia di un equipaggio che ha preso questo grosso masso paura a bordo l'equipaggio della barca audace ha pescato l'enorme pietra danni per diverse migliaia di euro una piccola pausa poi cercheremo di rimandare questa rassegna stampa in replica per arrivare alle 7.30 poi il collegamento con la basilica di Loreto grazie per essere stati con noi ci vediamo stasera alle 20.30